C'è nessuno? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Siamo qui, siamo qui! C'è nessuno? C'è nessuno? Guarda che entrano due eh! Giro a fuoco! Giro a fuoco! Giro a fuoco! Il discorso è quella che è puntellata... Guarda con me! Guarda con me! Guarda con me! Ok! C'è qualcuno? Forse, forse! C'è qualcuno? Quattro di te! Quando cambiate ci sentiamo sempre... Ascolta, noi abbiamo la conferma del secondo cane... ...e segnalarlo! Ciao! 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 Ciao!